Un saluto da Chisinau, dalla Moldavia, dall'Istituto Sviluppo e Ricerca Bocabionica. Questo è il Dipartimento di Bioemulazione. Questi sono gli spazi dove viene realizzata la linea premium e la linea superior. Qua nascono le linee dentali più sofisticate al mondo. Qua ci sono tutti i ragazzi che si occupano di far nascere dal design prima digitale al computer tutte le linee dentali che vengono poi montate nei nostri policlinici sia in Romania che in Moldavia. Qua potete vedere le postazioni di scansione dove vengono acquisiti i file delle impronte che arrivano qua fisicamente. e ricevono anche tutte quelle che sono le impronte invece digitali che arrivano dai nostri policlinici caricate quindi attraverso internet. Qua vedete per esempio Liviu, il nostro capo design che si occupa della ricezione e trasmissione dei dati poi ai policlinici e anche ai robot che abbiamo in Romania. Vedete quanti sono i designer. Questo è il futuro. Qua invece abbiamo la parte possiamo dire sporca dove vengono creati i gessi dove vengono create le basi su cui poi vanno a lavorare con gli altri dipartimenti alla realizzazione finale della dentatura. Questa invece è la sala macchine dove ci sono i robot e la sala di controllo con gli operatori che montano i file che devono essere poi riprodotti in fisico in tre dimensioni. e qua abbiamo i computer che vanno a trasferire quindi i dati che ci arrivano dai ragazzi che si occupano del design. Vengono caricate le arcate sopra le basi di fresaggio oppure di produzione metallica. Lì vedete i macchinari che fisicamente trasformano il disegno tridimensionale in un oggetto. Qua vedete per esempio le macchine di produzione del titanio strato dopo strato vanno a riprodurre quelle che sono le tridimensionalità create con il computer. Vedete questo ha creato già 242 strati di 719 quando avrà completato la fusione di tutti gli oltre 700 strati questa macchina verrà aperta e si andranno a rimuovere dalla base quelle che sono appunto le strutture realizzate. Questi sono invece i robot fresatori. Qua stanno producendo dei denti che verranno poi mandati alla clinica, riabilitazioni estreme, da montare sopra gli impianti dentali. Il paziente è quello che ha fatto per esempio l'implantologia. Qua invece vengono fresati sempre da altri robot quelli che sono i denti di zirconio che vanno posizionati sopra all'arcata per esempio superior. Questi sono i materiali che si usano. Sono materiali che vengono dalla Germania, dall'America o dall'Italia. Qua abbiamo invece i ragazzi designer. Andiamo negli altri dipartimenti, ci spostiamo, andiamo oltre e andiamo verso l'area dove vengono poi fisicamente realizzate le montature dei denti sopra alle barre metalliche. Questa per esempio è l'area dove viene assemblata superior. Qua abbiamo invece i ragazzi che si occupano degli aligner, degli allineatori che ci permettono di raddrizzare i denti. E qua invece abbiamo il dipartimento di ceramica dove viene finalizzata la riabilitazione, quindi ceramica. La nostra sala conference qua invece vengono fatte le riunioni mensili con tutti i ragazzi. Qua abbiamo la reception più tutti gli altri uffici amministrativi. Io vi faccio un saluto qua da Chisinau, dal nostro centro di ricostruttiva, di bienmolazione. Un saluto a tutto il gruppo. Ciao. Quando poi sarete all'estero le vedrete perché organizziamo dei tour dentro alla cucina. Voi pensavate che i denti li faceva il dentista? Ok, ma non li fa il dentista i denti, vi ho detto. Io li chiamo i miei dentisti, i camerieri. Tanto la cucina sembra la stessa. Ok, posso anche cambiarlo il cameriere. Ma io voglio quel dentista, ma lui deve solo prendere l'impronta. Dopo col computer, l'intelligenza artificiale, i robot, si vanno a produrre i denti secondo protocolli standardizzati. Non può nessuno passare nessun passaggio perché abbiamo una checklist come di decollo che devi fare tutti quei passaggi. perché quando lavori con 500 persone devi protocollare e usare tecnologia che ti permette di fare i denti belli a tutti, non i fuori classe. Io ho paura delle volte a lavorare con i fuori classe, il Leonardo da Vinci, perché è bravo solo lui. Poi gli altri non li fa crescere gli altri, li tiene sotto di lui, perché così lui guadagna di più. Ma cresce, 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 dopo sei anni si stanca uno, va in burnout, hanno vita breve come la vita da calciatore. Invece noi dobbiamo essere qua tra 30 anni, tra 40 anni, tra 50 anni. Bisogna creare un sistema che funzioni in maniera precisa. Come una fabbrica della Tesla, le auto si fanno col computer, non si fanno a mano le auto, si fanno col computer e si producono con i robot. Dopo le assembli a mano, ma va ridotta al massimo l'interazione umana al momento della produzione. Non voglio la vetreria di Murano. I designer prendono denti che esistono già, librerie di denti reali che esistono già, ce ne sono centinaia di librerie. Devono essere bravi a giocare col computer, nel senso a assemblare i file. Sono ragazzi questi che giocano tutti i giorni con la Playstation. Vedete, fanno otto ore al giorno giocando col computer. Non stanno usando le mani, stanno usando un mouse e una tastiera. I denti vengono prodotti da delle macchine che non si arrabbiano, non hanno i chiari di luna. Queste sono macchine molto costose. Conosco pochi dentisti che hanno tutte queste macchine nel loro studio dentistico. Non potrebbero averle. Sarebbe abusivismo della professione odontotecnica. stampanti di parrucche. Queste stampano solo plastica per fare i test della dentatura prima. Queste fresano materiali definitivi. Ognuna di quelle macchine quanto costa più o meno? No, 40.000 euro diciamo, una. Le altre, quelle lì di lato, tra i due, 350.000 euro. Serve molta tecnologia per produrre queste, no? Però tra 10-15 anni costeranno un decimo queste stampanti. Questo è il futuro. Quante costavano i primi computer? Quanto costavano? O il primo telefono mobile? Tanto. Siamo agli albori di queste tecnologie. Questa è la sala corsi. Come faccio? Faccio molto allineamento. I migliori, quelli più bravi, li metto a insegnare agli altri. E devono essere allineati sui protocolli e capire perché usiamo quel protocollo. I migliori odontotecnici e dentisti li faccio venire da me. Non mando 500 persone a Toronto a fare il corso da quello. Faccio venire lui. Mi costa meno che mandare 500 persone in aereo. L'importante è avere la sala corsi dove ospito ogni mese a rotazione persone di diverse discipline che sono però coerenti con quello che facciamo. E insegno anche io. Insegno ai pazienti. Perché i pazienti devono essere consapevoli di cosa stanno andando a fare. I migliori pazienti sono i pazienti. Ci sono anche gli impazienti. Gli impazienti non capiscono che è un processo, è una riabilitazione. Non puoi in dieci minuti fare quello che la natura fa in sei anni. Un dente si fa in sei anni la natura. Ma bisogna renderli consapevoli di quello che devono fare. I migliori pazienti sono quelli più istruiti. Che sanno tutto di quello che hanno fatto e che dovranno fare. Del perché non funzionava e funzionerà. Perché saranno quelli che poi non rompono le gambe bioniche. Perché sono quelli che avranno cura poi mai lavorare con persone che sono ignoranti. Farai delle bellissime cose e non le capiranno. E penseranno che si è rotto per causa di lui. Invece lui che strappava l'osso. La base dell'aftercare, dell'assistenza, è lavorare solo con pazienti che fanno un uso corretto dell'automobile. Persone che trattano male l'auto. L'auto dura poco. Per esempio il concetto entra dall'Apple Store, compra un iPhone e lo lancia dalla finestra. Poi vai e dice è in garanzia. Ma ne dai un altro. Se invece una persona che ha lavorato per quello, addirittura neanche gli dai la garanzia, ci sta molto più attento. Ne ha cura. E averne più cura significa meno tappe chirurgiche. Ci ha fatto molti sacrifici anche andare sotto i ferri. Sono 15 ore di bocca aperta. Ok? Tra riff e raff. Come si dice, no? 15 ore. Ti immagini rifarlo ogni due anni, ogni tre anni. Vediamo ogni tanto pazienti che escono dalla chirurgia. Vanno giù al ristorante e si accendono la sigaretta. E faccio, ok. Tanto sei tu che arrivai sotto i ferri. La migliore arma è la consapevolezza. Far vedere i denti sporchi, i denti rotti. Far vedere che tutto è trasparente. Vedrete tutto quello che si va a fare passo per passo. Solo così che si rende conto di cosa uno avrà poi in bocca. Che è una bocca artificiale, bionica, la chiamo io, non naturale. E la base è far scoprire al paziente quelli che sono i processi di lavoro. Che non devono strappare il cibo. Metterli tutti poi su un gruppo che ce ne parla a concetto.